Buongiorno, faccio questo video come approfondimento al video in cui ho parlato della truffa che in questo momento sta circolando in nord Italia. In realtà questa truffa ho saputo che sta circolando anche nel sud Italia, però di meno del nord perché effettivamente la raccolta di soldi che possono fare al sud è nettamente inferiore, quindi si sono concentrati al nord e per questo motivo. In ogni caso, che cosa dissi nel primo video? Che in questo momento stanno facendo una serie di operazioni finanziarie molto strane in cui prevedono una raccolta di soldi da risparmiatori italiani che poi partono per i paesi generalmente baltici, quindi Estonia, Lituania o comunque dell'ex Unione Sovietica, quindi paesi dell'est. Bene, adesso volevo aggiungere alcune informazioni che ho saputo, alcune sono note, cioè sono in automatico, altre le hanno aggiunte di recente e vi spiego il perché. Allora, per prima cosa, quando si fa un trasferimento di denaro verso l'estero, quindi si dice trasfrontaliero, si viene automaticamente segnalate alla WIF, quindi questo anche se fate un bonifico a un vostro amico. Se superano certe cifre, se non ricordo male 2.000 o 2.500 euro, e in quell'operazione che ho detto nello scorso video sulla truffa ovviamente sono tutte operazioni che superano questa soglia, automaticamente si viene segnalata alla WIF. Che cos'è la WIF? La WIF è l'unità di informazione finanziaria per l'Italia. Di che cosa si occupa? Sostanzialmente si occupa di prevenire il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Quindi è l'autorità incaricata di esaminare i flussi finanziari, di acquisire informazione e ricevere quindi le segnalazioni di operazioni sospette dei vari soggetti. E quindi effettua un'analisi finanziaria. Sempre, ogni volta che si fa un bonifico che supera una certa soglia, o un assegno che supera una certa cifra, e cose del genere, oppure si ritirano dal bancomat molti più soldi del previsto, ad esempio, mi sembra 1.600 euro al mese, ad esempio, se si superano 1.600 euro di prelievi al mese dal bancomat, in automatico parte la segnalazione alla WIF. Ovviamente la stragrande maggioranza di queste segnalazioni vengono controllate e non portano a niente, però se sono ripetute o se hanno altri elementi sospetti, parte l'indagine formale. Bene, quando si fanno quelli investimenti, che si investe in questi strani trading, in queste strane cose, la cifra è alta e soprattutto parte per l'estero, in determinati tipi di paesi. La segnalazione della WIF va sicuramente avanti, quindi fanno un'indagine formale, ma non finisce qui. Infatti, se la destinazione di questi soldi sono paesi particolari, e per paesi particolari si intendono quelli ex-sovietici, quelli baltici, i balcanici, che sono ex-Yugoslavie. Insomma, se vanno verso queste direzioni, o non solo, vanno anche verso paesi della blacklist. I paesi della blacklist sono tutti quelli in cui non c'è una norma antiriciclaggio seria, tutte quelle nazioncine che sono opache, non si possono fare indagini all'interno, eccetera. Se vanno in determinati paesi, si viene segnalate anche al GAFI. Che cos'è il GAFI? Il GAFI è sostanzialmente un gruppo di azione finanziaria internazionale. Sta per Financial Action Task Force ed è stato istituito nell'89 in occasione del G7 di Parigi. Quindi si sono messe d'accordo le nazioni del G7 e hanno fondato questo GAFI. Sostanzialmente si occupa in questo caso sempre della prevenzione e finanziamento del terrorismo, quindi del riciclaggio di denaro internazionali, del finanziamento appunto di attività terroristiche, del finanziamento dell'esempio dello traffico di droga, del traffico di armi e cose del genere. Quindi perché si viene segnalati? Perché queste nazioni sono spesso al centro di questi tipi di attività. Quindi che cosa abbiamo? Da un lato abbiamo la segnalazione della UIF. Dall'altro lato, siccome queste attività prevedono di spostare soldi generalmente in Lituania, in Estonia oppure Cipro, che sono già sospette di per sé e sono legate ad attività terroristiche, ad attività di finanziamento, la tratta ad esempio degli esseri umani, quelli che portano le prostitute poi nelle nostre strade e cose del genere, dello spaccio di droga, del traffico di armi, automaticamente oltre alla UIF si viene segnalato al GAFI. Si viene segnalato al GAFI anche se si convertono soldi in criptovalute. Questo per chiunque converte soldi in criptovalute, soprattutto se si superano certe cifre. Per quale motivo? Perché siccome una volta convertiti in criptovalute poi è difficile seguire i soldi, e generalmente si convertono proprio per questo motivo, per non essere tracciabili, si parte dal presupposto che devi fare qualcosa di illecito, perché altrimenti non prenderesti questo tipo di precauzione. Quindi nel dubbio pensano al peggio e quindi si viene segnato sempre al GAFI. Ora, che cosa comporta queste segnalazioni? Che si può essere coinvolto in un processo in cui ti accusano di aver finanziato attività criminali. E in Italia ci sono 21 processi di persone che hanno aderito ad esempio a questi investimenti di trading online, di questo tipo di truffa, tipo quella che ho letto l'altro giorno nell'email, e adesso si trovano col processo, impendenza, processo che gli sta costando un occhio, perché difendersi da una cosa del genere da accuse di questo tipo è costosissimo, e si rischiano, anche se si è un finanziatore esterno, che non sia proprio il criminale che immaterialmente fa le cose, comunque si rischiano fino a 7 anni di carcere, e fino a 5 milioni di euro di multa. Quindi state attenti a fare questi investimenti strani, soprattutto se sentite che i soldi vanno a finire nell'est europeo, oppure che c'è una conversione in criptovalute. Ovviamente queste truffe sono cambiate nel tempo, una volta avvenivano solamente per via telefonica, cioè vi telefonavano, vi convincevano con operatori a investire in trading, eccetera, e facevano così. Logico che dopo che ci sono stati i primi problemi, questo metodo prettamente telefonico si è un po' arenato perché poi la voce è circolata. Adesso lo stanno facendo dal vivo. Lo stanno facendo dal vivo perché tutta questa, diciamo, catena di persone che lavora in questo traffico di armi, in questo spaccio di droga, in queste cose criminose, deve essere pagata. Quindi sono pressate, gli servono soldi e hanno incominciato a far circolare persone, a raccogliere denaro per finanziarli. Ovviamente nessuno di queste persone è mai iscritto alla Consob o al Registro degli Intermediari, perché non sono veri intermediari. attenzione, anche se sono iscritti, bisogna vedere dove sono iscritti, perché a volte questi sono iscritti in altre nazioni. Infatti io l'ho detto, dovete controllare che siano iscritti in Italia se operano in Italia. Loro invece, per rassicurare alla gente, vi dicono ah ma noi siamo iscritti, qua c'è il foglio, ad esempio, con la carta intestata, siamo iscritti come consulenti finanziari a Cipro, ad esempio, oppure in Lituania, in Estonia, eccetera. Per quale motivo si iscrivono in queste nazioni? Perché la vendono l'iscrizione. Cioè non c'è come succede in Italia che devono fare gli esami predicantati e cose del genere e fanno 100.000 controlli. Lì semplicemente paghi e ti danno l'iscrizione. Quindi loro per rassicurare alla gente fanno vedere un'iscrizione, ma il guarda caso è di nazione dove si compra l'iscrizione. Mi raccomando, l'iscrizione deve essere in Italia, sia da loro, sia della società per cui loro lavorano. Anche la società per cui lavorano deve essere iscritta in Italia. Bene, io quello che c'era da dire e da aggiungere l'ho aggiunto. Adesso tocca a voi stare attenti. Non lo so se rientrerò ancora in futuro in tale argomento. Penso di aver detto tutto quello che c'era da dire. Ok, ci si sente al prossimo video.